Incidente sulla strada provinciale 565 Piedemontana all'altezza del comune di Coloretto Giacosa nel pomeriggio di lunedì 23 settembre intorno alle 16. A scontrarsi due vetture, una Lancia Musa e una Toyota Yaris. Dopo l'impatto le due auto hanno fermato la corsa a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte e della Croce Blu di Ivrea, i carabinieri di Castellamonte e del nucleo radiomobile di Ivrea. Ferite le due conducenti, entrambe donne che dopo le prime cure sono state trasportate all'ospedale di Ivrea. Non sono in pericolo di vita. In sinistra la valle dei carabinieri disaggia il traffico per il tratto bloccato. Non sono in pericolo, non sono in pericolo. Non sono in pericolo, non sono in pericolo. Non sono in pericolo, non sono in pericolo, non sono in pericolo. Grazie.